Torna a grande richiesta Villa Suite, che è un marchio comunque importante per questa città, dove in passato sono stati fatti già gli eventi presso la Villa Comunale. Tornerà il 4 e il 5 settembre con due programmazioni ben diverse, ma sempre tutto nell'ambito terramano a livello di programmazione. Avremo il 4 settembre tutto basato su live, tre band terramane, dove sarà possibile comunque cenare oppure fare l'aperitivo tutte e due le serate. Mentre il 5 avremo una serata molto più giocosa, più simpatica, con tutti i DJ, sempre terramani, con Filippo Porrini, Giorgio Di Marcello e Gianluca Bassino e Mauro Pompoli.